Benvenuti, benvenuti amici ad una nuova puntata di Radio Molla, io sono The Legend e qui con me c'è mia figlia, Lionella Legend, noi siamo per il rock, il rock duro e puro, senza se, senza ma, non senza forse, ma vedremo, ci incontreremo, fammi sapere tu, te lo saprò dire, no, 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 rock duro e puro, mia figlia, Lionella Legend, una tempra di ragazza, pensate e questa ragazza è stata eliminata 25 volte da X Factor e non ha mai piatto, mai versato una nuova puntata. Lionella, sono contento perché oggi è un giorno di anniversari, sì, e anche molti importanti, storici proprio, non so se lo sai, oggi è l'anniversario dell'invenzione dell'oblò della lavatrice ad esempio, sì, prima le lavatrici erano chiuse, non avevano oblò, quindi era tutto un andare a casa, un prenderci, tiravi fuori i panni e magari non erano stati lavati, oggi è l'invenzione, è il 25esimo anniversario della fermata dell'autobus, lo sapevi? Fermata dell'autobus, ci sono sempre state, io sapevo così. No, 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 prima gli autobus frecciavano, per salire sull'autobus, devi ricorre a una stratagemma, non so, salivi su un ponte e ti gettavi sul tetto dell'autobus, era l'unico modo, non lo sapevi? No, non lo sapevo, ma quindi una moria, una moria, ne morivano 8 su 10. La fermata dell'autobus ha salvato tante vite umane, oggi ad esempio è il 36esimo anniversario dell'invenzione dei soffioni, quelli degli autogrid, dove ti asciughi le mani. Quelli che risolvono tutti, perché con i soffioni si è risolto tutti. Certo, ma cosa succede? Una volta si andava, si lavava le mani, non c'erano i soffioni, cosa facevi? Si faceva in circolo, ognuno si asciugava le mani sulla camicia dell'altro, no? Si faceva in circolo così, no? Sì, in circolo, proprio così. Ah, quindi quando vedi quei circoli di gente perché si asciugavano le mani? Ah, ok, adesso vi lo spiego. Adesso cosa è successo? Però con il soffione, adesso i soffioni sono talmente potenti che molta gente va lì dal soffione a asciugarsi i capelli, fanno la doccia in casa, fanno lo shampoo e poi vanno a asciugarsi i capelli al soffione dell'autogrid. Ma sai quante code? Ma sai quante code aspettare l'autogrid per asciugarsi i capelli? Per fare delle pieghe perfette, sai? Ma c'è sempre il rovescio della medaglia, non si può mica mai stare tranquilli, per fortuna c'è un pezzo che ci consola. E qual è questo pezzo? Lo lanci tu, lo lancio io? Inoltre vi lanciarlo tu. Allora vi lancio Legendary dei Welshie Arms.